Prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A con due sfide importanti per sabato, una riguardante la zona salvezza e l'altra le zone medio-alte della classifica. Si parla del 18 con la sfida dell'uscita tra la formazione delle Crotone e della Bologna. Entrambe arrivano da sconvitte, i calabresi 1-0 della Lazio, mentre i felseni 3-0 dal Bologna. Attesa fuori alle 20.45 per la sfida di San Siro che vede di Ponte, Inter e Chievo. I nerazzurri sono reduci dal successo esterno ottenuto a Udine 2-1 contro l'Udinese, mentre la formazione scaligera è stata sconvitta in angassa dell'Atalanta per 4-1. Attesa fuori per le partite domenicali e per il club Fiorentina Juventus. Mimmo Siena, Speciale News.